Sì, adesso che vedo i nostri anni, a ciò che è sì, andate poi a finire, famare qui. Saremmo perché, famare in te, la smarciamà, 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 la smarciamà. San Formento che ruina sempre, sempre disciplina, la, 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 la. E con 60 anni e al mese, faccio le spese, faccio le spese, e con 60 anni e al mese, faccio le spese. E questo è l'aventimento, ragione special, andate poi a finire, campasta ma, andate poi a finire, famare qui. Saremmo perché, famare qui, 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 fam La riscaldà, la riscaldà, che cos'està? A l'Iran, lecce, la testa, la testa, che cos'està? A l'Iran, lecce, la testa, che cos'està? A te ti, a te ti!